Ben trovati al NOTES di Antenna 3. Diamo subito uno sguardo insieme, come di consueto, agli appuntamenti dei prossimi giorni. Apro la puntata di quest'oggi segnalandovi che a Casale Sul Sile, presso il porticciolo dietro la chiesa, venerdì 5 gennaio alle ore 20 ci sarà l'accensione tradizionale del pane vin. A Casale Sul Sile è la 31esima edizione di questa ricorrenza portata avanti dal gruppo Amici per Casale e patrocinata dal Comune. Durante la serata ci saranno i fuochi piromusicali e la Befana arriverà in barca per consegnare le calze a tutti i bambini. Cioccolata calda, vin brulee e pinza per i più grandi. Tutti dunque a festeggiare l'Epifania a Casale Sul Sile il 5 gennaio. Il MEVE, Memoriale Veneto della Grande Guerra di Montebelluna, vi aspetta per visitare la mostra Spirito e Corpo, Fede e Alimentazione in Guerra. Un'esposizione multisensoriale e interattiva per riflettere su come fede e alimentazione possono essere chiavi di lettura importanti per interpretare i conflitti di ogni tempo, dalla Grande Guerra fino ai giorni nostri. In dialogo con l'allestimento permanente del Memoriale, l'esposizione presenta numerosi reperti bellici, rari, documenti d'archivio e riviste d'epoca provenienti da collezioni private e prestigiosi musei. La mostra è pensata per tutti, famiglie, appassionati e curiosi. Per saperne di più è possibile consultare il sito www.memorialegrandeguerra.it Al Museo Bailo di Treviso, fino al 4 febbraio, c'è un'ampia retrospettiva dedicata a Iuti Luigi Ravenna, artista eccellente e attento critico d'arte. A oltre 50 anni dalla sua scomparsa, i musei civici di Treviso gli dedicano questa bella mostra che attraverso un percorso cronologico presenta le varie fasi dell'attività e della vita dell'artista con oltre 100 opere pittoriche, disegni, bozzetti e acquerelli, ma anche con documenti e foto d'epoca e oggetti a lui appartenuti, tutti provenienti da collezioni private però più locali. Importante e preziosa occasione dunque di valorizzare il nostro patrimonio artistico. Nel 2005 venne scoperto il pianeta nano Eris. È il secondo pianeta nano per diametro medio del sistema solare dopo Plutone. Si tratta di un oggetto ghiacciato orbitante nel sistema solare esterno. Ha un'orbita molto eccentrica che lo porta ad una distanza minima dal Sole di 5,6 miliardi di chilometri ad una massima di 14,6 miliardi. Possiede anche un satellite di snomia del diametro di circa 250 chilometri. Saper ascoltare significa possedere, oltre al proprio, il cervello degli altri. Leonardo da Vinci Scopriamo la Marantega Veneziana Nella tradizione veneziana i bambini non aspettavano Babbo Natale bensì la Befana che a Venezia viene chiamata Marantega. La leggenda narra che i tre remagi alla ricerca di Gesù Bambino si fermarono per chiedere la strada ad una vecchina. Lei però non aveva idea di dove fosse il bambinello. Era quindi rammaricata per non saper indicare la via. Gaspare, Melchiorre e Baldassare i tre remagi se ne ripartirono subito. Da quel momento la povera Marantega che non giunse mai nella capanna della nascita di Gesù Bambino continuò a cercare per tutto il mondo il bambinello e nella speranza di trovarlo dispensa a tutti i bambini buoni i doni che porta sempre con sé. Dal Notes di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci. Grazie. 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 Grazie.